il cibo agisce sullo stato emotivo ciao io sono desirè e lei veronica ciao sì come sull'intero corpo il cibo interagisce anche con il nostro cervello quindi va a modulare gli stati emotivi la psiche la qualità e la creatività nel lavoro e nella vita quotidiana emozioni e cibo come interagiscono in te raccontalo qui sotto grazie